In acqua c'è la serie 2, presentiamo la prima serie, David Gadiaga piave nuoto in uno, Luca Sini, Padova nuoto in due, Sebastiano Bianchi, Sport & Fitness in tre, corsia numero 4, è campione italiano giovanile dei 100 stie libero, 4 medaglie in Coppa Coma in 2016, Francesco Peron, Sporting Club Noale, in 5 Siva Sridhar, India, in 6 Calvincuizze, South Africa, in 7 Thomas Vecchiato, Idros, in 8 Pietro del Mistro, Maniago nuoto. Lorenzo Menegaldo intanto 29 e 40 per aggiudicarsi la seconda serie.